Se l'ho dato Gesù Cristo, un saluto carissimo a voi che ascoltate. Il Vangelo di oggi mette in evidenza il successo di Gesù fra la folla e la gente comune. Tanti vanno e siamo nel nord, attorno al lago di Galilea. Nel contempo l'insuccesso di Gesù con i parenti, che vanno a prenderlo e lo ritengono pazzo. O forse vogliono dargli del pazzo per poterlo sottrarre alla sua missione perché mette in pericolo l'opinione delle autorità sulla famiglia e avevano pure ovviamente di ritorsioni. Chi seguiva Gesù veniva perseguitato, veniva bandito dalle sinagoghe perché era considerato un falso maestro. Ora, questo insuccesso di Gesù in famiglia, che è permesso da Dio, famiglia vuol dire i cugini, parenti tutti più stretti, fa sì che Gesù ci insegni che al di sopra di tutto sta la parola di Dio e la sua volontà. Lo insegna Gesù alla madre appena dodicenne, quando viene ritrovato, dopo tre giorni, a discutere con i dottori del Tempio. Non sapevate che io devo compiere la volontà del Padre mio? E la madre si ritrova nella stessa condizione quando gli stessi parenti diventano ostili e si ritrova però a dover capire più profondamente il figlio. Per la madre Gesù non è affatto un pazzo. Per Maria Gesù è il Dio fatto uomo. Quello che la colpì e la turbò fu la predizione del distacco da lei che umanamente dovette assumere, sperimentare, imparare. Ma in lei non c'è mai stato nessun tipo di ostacolo, volontà di ostacolo nei confronti del figlio. Anzi, diventa la sua discepola e dopo una prima fase anche lei segue gli apostoli con le altre donne. Mentre invece nella famiglia rimane questa opposizione sorda, tenace. E quindi lei condivide la scelta del figlio. Perché ha la coscienza perfetta di essere nella volontà di Dio. E la volontà di Dio è scelta di essere obbedita da ogni singolo cuore. Per cui in una buona stirpe, ecco che i cugini di Gesù, due di essi, Giuda, Taddeo, Giacomo di Alfeo, entrano a far parte della cerchia degli apostoli. Ma il resto della famiglia no. Il che vuol dire che se la risposta nostra è importante, e se l'educazione ha un suo peso, tuttavia gli spiriti si dividono anche all'interno delle famiglie tra chi sceglie Cristo e chi lo rigetta. Non è fatto dunque solamente di cultura o di legami di sangue, la fede, ma si crea una unità e una forza e una fratellanza maggiore per questo vibrare all'unisono nella fede in Cristo. Chi è mio padre? Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Chi fa la volontà del padre mio è per me madre, fratello, sorella. Ci sono dunque fratellanze maggiori, più consistenti di quella che è la parentela, proprio perché chi rende fratelli, chi rende uniti è l'unità dello Spirito Santo che il Cristo dona e la grande divisione è contro Dio o con Dio. Servi di Dio o non servirò come il demonio. Gesù dunque si pone come pietra d'inciampo cominciando proprio dal prossimo, cioè cominciando proprio da quelli che sono più vicini a noi, perché sono quelli che prima reagiscono, ovviamente, sia nel bene che nel male. E noi siamo chiamati a seguire il Cristo sopra ogni considerazione umana. Una vocazione, una scelta di fede, questo può mettere in gioco le relazioni anche più forti, quelle parentali. ma è Gesù stesso che dice quando ci sarà il giorno del Signore sarà così improvviso e ci sarà una scelta chi verrà preso e chi verrà lasciato. Chi verrà preso e chi verrà lasciato possono essere anche parenti o abitare nella stessa casa ma non è questa unità, non è un'unità sociale o territoriale o culturale che fa la differenza questo o quel popolo ma questa o quella persona a seconda del cuore che uno ha ovvero di quale tipo di anima ha? Un'anima che cerca Dio un'anima che la rifiuta un'anima che si affida a Cristo un'anima che si affida al mondo ragiona con il mondo ama il mondo e il cielo gli è estraneo o nemico. Dobbiamo dunque sempre qualsiasi tipo di valutazione esercitando tanta carità tanta pazienza con tutti con tanta umiltà rimanere però fermi in quello che è la nostra fede quella che è trasmessa dal Catechismo dalla tradizione della Chiesa che riflette tutto nel Vangelo il Vangelo la tradizione il Catechismo sono i punti di riferimento per la nostra fede chi si allontana da questo si mette in grave pericolo possiamo essere considerati pazzi o anche così degli estremisti della fede che cos'è un estremista? uno che crede completamente nella legge di Dio nella sua parola e la vuole fare e la vuole compiere è una scelta mia mi costa? sì la seguo la faccio pesare sugli altri? no è una scelta mia un estremista forse imporrebbe agli altri qualche cosa obbligando la scelta che non vuole fare uno verrà preso e l'altro lasciato noi siamo soggetti attivi della nostra scelta per Cristo e attendiamo che egli venga a prenderci e ci metta nel suo regno in quel posto che ha già preparato per noi chi non vuole con dolore lo lasciamo a se stesso questo non è estremismo questa è coerenza personale di una scelta la scelta per Cristo Dio vi benedica grazie a tutti Grazie a tutti.